Gli eventi sono sempre più integrati nel media mix e nella strategia aziendale. Come sfruttate il mezzo evento oggi? Noi di Deliveroo siamo un e-commerce, quindi per noi gli eventi lavorano nella parte alta del funnel per la parte di awareness e di consideration. Per noi è un mezzo per riuscire a ingaggiare i nostri clienti e potenziare i clienti e coinvolgerli nell'esperienza del food delivery. Nello specifico per noi è molto in strada, molto street, perché è parte della nostra natura essere tra le persone, essere parte della vita delle persone. Uno degli esempi di questi eventi che ho raccontato poco fa qui a Albea è proprio di quando abbiamo messo in contatto persone che stavano mangiando a Milano con persone che stavano mangiando a Londra. Abbiamo creato un tavolo che aveva metà tavolo a Milano, uno schermo digitale e l'altra metà del tavolo era invece a Londra. Il nostro partner Rosso Pomodoro ha portato le pizze per due giorni in entrambe le location e le persone potevano mangiare con i propri amici dall'altra parte dello schermo, essendo vicini senza esserlo fisicamente, grazie alla tecnologia e grazie al food delivery. Quanto ritenete utili incontri come Be Education a Roma dove agenzie e aziende si incontrano e si fa cultura sul settore degli eventi e della live communication? Trovo questi tipologi di eventi assolutamente molto utili perché permettono di mettere in contatto non solamente i professionisti, le aziende e le agenzie, ma anche di creare stimolo per le idee, per vedere cosa viene fatto anche al di fuori del proprio mercato, per avere stimoli, idee, per fare cose nuove e challenge sempre superiori. Grazie.